Direttore, cosa pensa della crisi di coppie e d'immagine di Fedez e Ferragni, chiede Elena. Sinceramente non me ne frega niente, succede a tutti i cognosi di litigare o comunque a molte coppie di rompersi e nessuno fa delle tragedie, quindi quella tra Fedez e Ferragni mi sembra un'assoluta normalità che va accettata senza fare tanti discorsi sui giornali, senza cercare di interpretare. E niente, due si possono anche lasciare, litigare e siamo nella normalità di cui a me non ne frega niente. Una normalità che fa molto rumore, però questo dici.